Ehi tu, sei pronto per combattere delle battaglie speciali? No? Ah ok, capita, niente, lascia sta Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo minigame Oggi giocheremo a Arena Brawl, si dice Brawl più o meno E dovremmo iniziare scegliendo il nostro kit Allora, pecorella, interessante Allora dobbiamo scegliere un paio di cose interessanti Uh ok, non so come si gioca e la prima volta che sto giocando Si possono fare sia i 4 vs 4 che i 2 vs 2, quindi potremmo provare entrambi Facciamo 2 vs 2 Ranked Sono in queque adesso E non so bene dove potrei cambiare le mie armi Se tipo c'è anche la possibilità di cambiare le mie armi In teoria si E non so bene però, dove? Hmm, c'è la gente che sta rankando Ih, guarda qua, guarda, 3.019 Ih, guarda sta gente, va Eh sì, qua siete uguali Perfetto Hmm, ci sono i coin Ah ok, se vinciamo prendiamo 20 coin Se perdiamo 5, se killiamo 2 Eh, non è male, devo dire che comunque ci può stare tantissimo Il problema è stato il fatto che voglio uscire comunque le armi Andiamo un po' qua Oh, sono stati tippati ragazzi Perfetto La Fireball, Lealing Totem, Shield Wall Ok Bull Charge, presumo che Bom, picchiamo così Ehi amico, salve Sei pronto? Sei pronto? Fidati di me Ci otterremo tutti Da 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 dan Vai Ulisse Vai Carico Carico Dai 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 che ce la facciamo Dai che gli facciamo il culo Dai Ulisse Aia Oh, si inizia Le botte Le botte ovunque Guardate quello Sta lì ragazzi Oh, vai vai Da dietro, da dietro Uh, nice 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 Piglia botte Piglia botte Piglia botte Lol Piglia botte Aia, aia E qua Vieni Cosa fai da là Vai Piglia botte Guarda quanto laggo io Oddio, oddio Ok Boom Ok, ho fatto una cosa che non saprei nemmeno cosa, cos'era sinceramente E devo buttarlo, va, picchia, muori, bello, muori, muori Con un attimo incastrato Eh sì, ciao, sono il totem che hila, tutto GG Ok Uh, uh Dove l'armi pure io, devo l'armi Ho preso botte ragazzi Perfetto Mi piace questa cosa È interessante Amico Dai Devi farcela Puoi, puoi salvarti Ne son certo Io confido In te No, mi sa che pigli botte e basta Ok Eh, la volta che gioco a questa cosa Non so di vero come Come si può fare ragazzi Però so che ha pigliato botte Sì, ha pigliato molte botte Amico La tua carne E le tue ossa Sono qui in giro Ok Sono successe cose molto brutte Proviamo a farne un altro, va No, sì, cari amici Sono morti No, 4 vs 4 Magari più figo Che dite Ah, queste sono le ranked Ah, ok Ah, 4 vs 2 Sono le ranked Perfetto Proviamo un attimo a fare questa Mi hanno tipo abbastanza rato In effetti Eeeh Viva la natura della gente Che mi vuole shuttare a male Male, male Pronti Pronti Dai, dai Questa volta dobbiamo fare qualcosa di meglio Ucciderli Ma soprattutto Non sputare come ho appena fatto Perché la cosa è brutta Ok Ehm Abbiamo usato queste cose basilari Perfetto Sono pronto Amici Qui, qui Riuniti Tutti attorno Tutti attorno Allora Dobbiamo shuttarli male Siete pronti? Tu Uomo command block Sei pronto A vincere? Presumosì un sì Ti taggia consente Ok Let's go Let's go Ecco lì Ecco lì Oh Shed wall Ok Ok Pili a botte Pili a botte Pili a botte Pili a botte Eeeh Ciao amico Oh Oh Oddio Diamine Sono salito Tantissimo Sono salito Siamo che stanno pigliando un po' di botte In effetti Stanno pigliando un po' di botte Ok Bisogna eliminare questo totem Ragazzi Oh Ora botte Bote che prende Bote che prende Bote che prende Ecco Vieni Aia Oh Guarda Ulisse Mo si che gioca Mo gioca Quello staff k Quello staff k Non va bene sta cosa Uh Guarda come impiglia a botte Lol Mazzate Mazzate Oh Lo sa Dove sta Dove sta Eccolo lì Eccolo lì Ok Ci possiamo andare Ci possiamo andare Dovrei avere un bel po' di vita Ancora Sì ce l'ho Ce l'ho Perfetto Oh Pum Oh Si è giocanuto Si è giocanuto Ok Sta scendendo da questa parte E da l'altra Da l'altra Devo fare un salto Salto mortale E uccidere ragazzi Uh guarda lì Oh Vieni qua Fatte vedere Oia Totem curativo Totem curativo Ilate Ilate ragazzi Non preoccupatevi Ok guardate lì Ragazzi Figo sto Igal Perfetto E Mamma Ulisse Shotta Ok Oddio Quello si è curato Mi sa dentro lì Guardate Vai al totem Vai al totem Vai al totem Vai al totem È morto il totem Aspettate che Siamo un paio Un paio di chili Stanno facendo Che figata Oddio Mi buttano cose strane È bello che qua Non si è accorto nemmeno Che lo stanno prendendo In tre Lo stanno prendendo Quattro contro uno Ragazzi Lol GG Lol Lo sono finito in un buco Ok È problematica Sta cosa Ragazzi Sono un attimo Nella merda Ok Capirò come uscire Non lo so Suppongo il fatto Che comunque Sono fermo qui A merda Va bene No problem Ok Dopo il menso tempo Sono riuscito a scappare Ragazzi E lì c'è il nostro amico Vai ora lo becchiamo Lo becchiamo Sto facendo Sto facendo Sto facendo Vieni qua Vieni qua Che ti piglio Vieni qua Che ti piglio Oh Piliato bot Piliato C'ho shield wall Ragazzi Ok Abbiamo vinto No manca un altro Ne manca Oh Oh L'ol Pili a bot Pili a bot Vai che ti shotto io Ti shotto Ti shotto io A morte A morte Abbiamo vinto ragazzi GG GG Mi piace Mi piace Voglio prendere un altro Siamo uno a uno Voglio provarli Un altro ancora Un altro Pronti Un 4 vs 4 Perché 4 vs 4 Mi sento più 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 figo Quindi proviamo un altro E guardate Ho provato la shader Però con la standard Normale Quindi volevo provare Un paio di cosette Non è proprio una shader Però è un miglioramento Di colori Ditemi se vi piace O no Non lo so Lasciate un bel like In ogni caso Oh Oh Ragazzi Allora Abbiamo un trollman No Abbiamo un anonymous Tu Sei Un anonymous Comunque Soprattutto come si fanno Cambiare queste skill Solo che bisogna avere Un sacco Un sacco Di coin Quindi presumo Che bisogna vincere Un sacco di volte Nei kill danno 2 Nei vittorie danno 20 Quindi in effetti Dovrei killare e vincere Molto più spesso Del solito Però mi sa che non funziona Così facilmente Ok Siamo pronti Uh Botte Ah ok Posso lanciare le fireball Così Aia Iè qua Piglia botte Stronzo Stronzo Piglia botte Vai 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 Oddio Qua c'è la cosa in ferro C'è la cosa in ferro L'ho Stronzo Ho finto l'energia Ho finto l'energia Porca cacca Ok Aia 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 Piglia botte Vien qua Vien qua Vien qua Vien qua Vien qua E' il tizio command block Ero il mio amico di prima Vai Rilatemi qua Rilatemi qua Ok ok Piglia botte Piglia botte Piglia botte Piglia botte Piglia botte Ehi Amico 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 No no vai via Vai via Ok Ok Devo fare attenzione Porca vacca Bisogna fare moolta attenzione Ragazzi Non bisogna morire Loro sanno messi Molto meglio di noi Dobbiamo sfruttare il numero Per vincere Oddio L'hanno sciottato Gli hanno fatto un male assurdo L'hanno fatto Aia Aia Uh GG per le ilt Ragazzi Oddio Ah Mi hanno arato Mi hanno abbastanza arato Va bene Come cosa va bene Dai Dobbiamo sperare solamente Che loro vincano Però c'è quello con Nel coso in ferro Che probabilmente Non morirà mai C'è uno con l'armatura in ferro Guardate quello lì E poi sta fermo Alla fin fine Non sta facendo Manca nulla Sta così Sta guardando in vuoto Tranquillo Non preoccuparti Fischiatene proprio di tutti Mentre i tuoi amici Pigliano botte da tutto Va bene Ragazzi Lo possiamo anche fare Nostro amico Sta messo Più o meno Decentemente Sta dando botte Eh no Mi sa che morirà male Non penso Ce la farà mai C'è 300 e Sta vicino a morire Eh no Morirà Morirà Perché Ha usato il potere Del deal Però Ha davvero pochi hp Però lo potrebbe comunque fare Uh ha dato pure botte Gli ha dato Dai piccialo Piccialo Fagli un male Fagli un male Sciottalo Dai che ce la puoi fare Lol Ok Niente ragazzi 1.37 Morto Quasi morto Quasi morto Sei a capiccia È morto Perfetto E rimane l'ultimo amico Che ovviamente adesso Verrà pestato a sangue Quindi Amico mio Mi dispiace Ho fatto del mio meglio Non sono morto almeno per primo Questa è una cosa interessante Però Però Mi sa che stai nella merda Eh mi sa proprio di sì Guarda come girano Lo pigliano La muffo Mamma Li lanciano anche le bombe Così ammuzzo Oh Guarda come piglia botte Piglia botte Piglia botte Dai Mangiati di cose Poveretto Poveretto Mi dispiace davvero per lui È stata una bella cosa Incontrarlo Però no No Non va bene così Ok la sua fine è giunta Addio amico mio È stato bello incontrarti Però Ti hanno Uh uh Power up Sei scappato Guardalo Guardalo È morto Va bene Eh addio amico mio Oddio ha recuperato HP Come ha fatto a recuperare HP Ah c'è un power up di IAL Mi sa Che figata GG per lui Però mi sa che non durerà così tanto Non durerà nemmeno così tanto Uh Aia l'ha beccato Un altro corpo è morto Mi dispiace ragazzi Vabbè mi ha preso due coin Sette coin mi ha preso Sono tipo una merda però Ehi Fa nulla Comunque Quindi ragazzi Questo è l'Arena's Bowl Spero che vi possa piacervi L'IP Lo trovate qui sotto in descrizione Siamo sulle pixel Visto che È meglio dirlo Con quel nome Lasciate un bel like E qui c'è qualcosa di strano Che non so nemmeno io Cosa diamine sia Però Ehi È fighissimo LOL LOL